E' arrivato il momento di raccontarvi la storia dei Galgo Spagnoli, una razza di cani sfruttati per svariati compiti di lavoro e spesso purtroppo maltrattati e dimenticati dai loro padroni perché magari non più in grado di svolgere quelle funzioni così care ai loro padroni. Sono però cani affettuosi, bellissimi, capaci di dare tantissimo se adottati da una famiglia che li può accogliere e spesso purtroppo il loro destino non è quello, vengono addirittura a volte uccisi, hanno dei destini veramente tragici. Ci sono però delle associazioni in particolare, oggi abbiamo l'associazione di volontariato insieme per FBM, Fondazione Benjamin Menert e qui con noi c'è Cinzia Crea che torna a trovarci in studio. Ciao Cinzia, ben ritrovata. Buongiorno, grazie, ciao. Accomodati pure intanto. Fanno tantissimo queste associazioni per recuperare i Galgo Spagnoli e dare loro una seconda vita, una vita anzi molto migliore probabilmente di quella che avevano prima di arrivare nelle loro nuove famiglie. Cinzia, intanto ricordiamo chi sono i Galgo Spagnoli. Ho detto una razza di cani ma spieghiamo meglio. Beh sì, sono una razza anche antichissima e sono cani da caccia, sono cani insomma belli prestanti, potenti e per quanto sia io li chiamo metà cano e metà divano perché altrettanto sono cani pacifici, sono tutti abituati a stare insieme, quindi socializzati, possono stare col mondo, si utilizzano anche per la pet therapy. Ok, quindi sono cani particolarmente dolci e diciamo accomodanti nei comportamenti delle persone. Sì, non sono cani ruenti, non sono cani che ti saltano addosso, chiaramente tranne qualche giovanissimo, insomma. Però il loro impatto è molto dolce. Per chi non conosce il termine sono sostanzialmente dei levrieri, no? Sono cani molto agili da corsa, diciamo, classicamente. Sono un piccolo aiutante di Babbo Natale, di Homer Simpson, ecco, per far capire la casa di cosa stiamo parlando. Sono cani antichi, sono quelli dell'antica Egizia, sono cani che non sono stati poi modificati nel corso dei secoli. È una razza interessantissima. È appena entrata in vigore, questa è un po' la notizia che vogliamo raccontare oggi, una legge in Spagna sul benessere animale che riguarda ovviamente anche il galgo, no? Sì. Non è una... Ecco, vediamo di cosa si può dire. Non è una bella notizia. Ah no? No. Speravo invece che fosse una bella cosa. Non è una bella notizia perché hanno messo... Cercano il benessere animale per cui, per esempio, tu non puoi lasciare neanche un minuto il cane in macchina perché se passa la polizia ti fa chiaramente la multa, ma non puoi lasciarlo fuori dai negozi. Però dipende dal tipo di cane. C'è una diversità. Se il cane è cane compagnia, allora viene tutelato magari anche eccessivamente. Qualora è inserito come cane da caccia, non ha alcun diritto. È una cosa. Accidenti. È uno strumento per quel lavoro. È una cosa. È una cosa. Siamo nel 2024, eh? Sì, sì. Credo, credo. Non è una puntata vecchia di Gheo quella che state guardando. Sì. Eppure succedono ancora queste cose. Sì, è una... Sono una cosa. Tant'è vero che quando si arrivano in fondazione, chi è che li registra deve stare attentissimo a non sbagliare la tendina che si apre. E vengono tutti catalogati come cane da compagnia. E parlando di quello che è il loro lavoro, che loro svolgono, come mai, lo accennavo prima nell'introduzione, perché si arriva a un punto in cui il proprietario non vede più un valore? Qual è il modo in cui loro perdono, questa è una parola orribile per un animale, però questo è il valore, diciamo, di lavoro. In che modo? Se non li fa vincere, si vincono soldi, molti soldi. Nelle corse, diciamo. Sì, è una caccia-corsa, è una corsa che si cerca di seguire la lepre, però ci sono anche tantissimi che devono stanarla, devono seguire tutti i vari percorsi che fa la lepre, le varie curve. Beh, se uno taglia, quello già non è un cane, taglia la strada, non è un cane che va seguito. Non so, ci sono le fattrici, se arriva una fattrice e muoiono tanti cuccioli, quella va buttata. Un cane che non è abbastanza veloce, un cane che magari si gira perché non vuole correre, perché fanno degli allenamenti anche molto molto duri. Il colore, anche il colore può essere... Il colore stesso. Addirittura leggevo che se si infortunano la coda, che è usata come timone, già è un problema. Via, 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 perché il timone non ha... che poi in realtà non è vero. Io personalmente ne ho una senza coda perché è stata investita e lei corre tantissimo. E corre come un levriero. E gira, corre come un levriero e gira tranquillamente. Ecco, proprio perché tu ci citavi che ne hai una. Raccontiamo qualche storia di quelli che avete anche magari recuperato, che avete incontrato. La prima è Luz, vero? Luz. Luz è arrivata scheletrica, una cagnolina deliziosa, bellissima, con un manto anche molto particolare, un po' lungo. È arrivata scheletrica. Qui si vede, sì, si vede. Quello è Alberto, che è uno dei... è l'educatore della fondazione. Lo sta prendendo in braccio, pesava 10 chili. Chiaramente aveva una fame... ha una fame terribile, solo che bisogna appena ricominciare a mangiare. Ha avuto una... una deficienza epatica, per cui è stata ricoverata in una struttura 24 ore. Questo è un ospedale anche, la fondazione. È stata ricoverata in una struttura ospedaliera veterinaria 24 ore su 24. Però le analisi hanno dato buoni risultati, a poco a poco. Bene, bene. Bene, mangiare poco. E poi c'è... eh beh, beh, si bisogna stare un po' attenti, perché ha disponibilità di cibo, giustamente, poverina. Buon mangiare. Esatto. E invece René è l'altra... René è un maschietto, è un maschietto di quasi 5 anni. La mia passione, perché lui è cieco. È diventato cieco e nonostante tutto, voi lo vedete nelle aree sgambo. Lui comunque ha la percezione perfetta di tutti i suoi amici, del suo posto. chiaro, ha difficoltà, avrebbe difficoltà in una grande... in un posto molto grande, ma comincerebbe a seguire tutti i vari perimetri e andrebbe tranquillamente... Sono cani, quindi hanno l'olfa... è adottato? Sì, è adottato. Diamo anche questa bella notizia. È adottato. Anche Luz sarà adottata, finita la sua... Sì, il momento, diciamo, di attenzione. Beh, in questo momento ha bisogno di attenzione. Queste sono belle storie. Tra l'altro sono cani equilibratissimi, lo accennavamo. Sì. Sono adatti a stare in famiglia. Adattissimi a stare in famiglia. È importante che... Io dico sempre l'empatia. Cercate di capire. Noi comunque come associazione seguiamo anche molto. Spieghiamo un pochino sia il discorso... Ecco, come si fa adottarlo, appunto. Spiegaci questo aspetto. Voi l'ho seguito. Allora, si chiama, in genere, fanno una richiesta all'associazione insieme per FBM, anche perché siamo gli unici che possiamo prendere i cani dalla Fondazione Benjamin Menert, che ha a Siviglia. Si vede, quello è l'ingresso. E... In genere fanno una richiesta. In base alla richiesta noi cerchiamo magari il cane più adatto, oppure il cane più adatto alle esigenze della famiglia, però cercando poi di non lasciarla sola in questa avventura. Ecco, poi la famiglia avrà bisogno di alcune accortezze, no? All'inizio, quantomeno. Qualche consiglio anche su quello, giusto per dare un'idea ai nostri spettatori. Giusto, scusami. No, a figura. Cerchiamo di dare sia qualche nozione di linguaggio del cane, che magari spesso manca, sia la conoscenza del cane, la conoscenza del lavoro, quello che c'è dietro, da dove sono venuti. In Fondazione c'è una lista di attesa, perché alcuni galgeron non li ammazzano più i cani, e quindi c'è una lista d'attesa di oltre 100 cani. Accidenti. Beh, diciamo che è un bene, nel senso che comunque ci sono tante persone che li vogliono prendere, dall'altra è un altro bene, che i galgeros almeno, quantomeno non li ammazzano. No, qualcuno. In qualche modo, ecco esatto, in qualche modo qualcosa si sta muovendo nella giusta direzione. Ovviamente sarebbe bene che quella famosa legge di cui parlavamo all'inizio tenesse conto del fatto che sono comunque cani, e quindi non vedo la differenza fra un cane di compagnia e un cane da lavoro, in questo senso. Non esiste. Sarò io quello strano. Non esiste, è una questione di la caccia, lì è molto seguita, ci sono molti soldi dietro, molto bene. Vabbè, speriamo che qualcosa cambi, intanto grazie di essere stata qui con noi. Grazie mille, grazie a voi. Buon lavoro a tutti voi. Grazie, grazie mille. Grazie a Cinzia Crea, dell'Associazione di Volontariato Insieme per FBM, e ora andiamo in Abruzzo, in questo documentario, in provincia dell'Aquila, alla scoperta dell'altopiano di Piani di Pezza. Guardiamolo insieme. Grazie a tutti.